Ben tornati in questo mio nuovo video sul mio canale Oggi andremo a reagire a dei genitori che hanno demolito, distrutto, spaccato, demolito la PS4, l'Xbox, quello che è dei propri figli E ovviamente andremo a regire a video americani, perché ovviamente gli americani sono very very crazy Se questo è il primo episodio di genitori che distruggono l'Xbox, PS4, PlayStation, console, ai propri figli Può piacervi, a 20-30.000 like vedremo i figli che si vendicano sui genitori Sarà il delirio più totale, più fuori di testa O ieri notte ho visto delle clip, o mi sono preparato delle clip, ho visto dei video Ok, e quelli che ho visto ieri notte, li ho selezionati molto bene E sono quelli che andremo a vedere adesso, in questo momento E sono quelli che diciamo, what the fuck, cosa vuol dire? Andiamo subito a vedere il primo No, 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 no No, 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 no no, 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 no Io考ate per una og alle sc Scrappi! 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 I told you we should've done the Christmas cookies. Should've just done the fucking cookies. Whatever he was gonna pramp me with. Salt. Whatever. Should've just done it. Damn, I'll show him. So you got any of the S4? More shit, more important, beating my goddamn cookies, huh? Hey! Hey! Stop that! Oh my God! How about that, bitch? How about that, huh? Dude, get out! Ah, damn you! Get out there! How about that, huh? How about that? How about that for your PlayStation 4? There it is! How about that? Dude! I'll have you play it! I'll have you play it! Let me see! Oh, I think I'm the goddamn thing! Now, you won't make you either not! Huh? Michael, call the cops! Call the cops! Yeah, you call the cops! Call the cops! Call the goddamn cops! I'm a bitch! Where's the phone? Michael, seriously? Get out of here! Get out of here! You gotta go, dude! You gotta go! Yeah! How about that, huh? Hey, Michael, let's play a game! Hey, Michael, let's play a game! Ah! Yeah! There's your goddamn table! No! Dude! Get out! Michael! Next time I keep you long, you're done! When are you going to make cookies? When are you going to make cookies? I'll do your TV next! Sorry! You better be glad you're so sorry! Hey! I have to come back! Stop! KTV, goodbye! Oh! Come on, Mr. Avenger! Another one! Wow! You gotta do something about him, dude! I think we should get him committed, I'm serious! Let's all do this and then we're going to make movies game shows! There's a romance in the first one! Yes! That's right! We're going to make movies game! No, man! I don't know what's wrong with that! We're going to death! We're going to death! We're going to go! You can make movies now... We're getting movies! We're going to be... That's right! It's the first one! That's the next one! Ma più totale non si può Ma ragazzi Proprio degenera Proprio Cosa E' degenerazione mentale Proprio al massimo Dei livelli mentali Per tornare un po' a noi Ragazzi se qualcuno mi avrebbe preso la PS4 E mi avrebbe fatto queste cose Io giuro che su Dio Che l'avrei ucciso da botte ragazzi Io la mia PS4 non la faccio romperla a nessuno Anzi queste clip sono fuori Proprio povero ragazza Ma che t'ha fatto per spagarli così la PS4 Io immagino che dopo Il secondo me Sto ragazzo Sto poverazzo Sto povero cristiano Poi gli hanno spagato la PS Io penso che sto poverazzo Se starà messo a piangere Ma non mi Madonna ragazzi Diciamo che il primo E' un po' Esagerato Andiamo a vedere il secondo E' un po' Halo There's no fucking Halo There's no way There's no fucking way This is all Good job More peeps Damn What the hell is this going on? Oh no What the fuck is this going on? You've been out of college for how many months? Oh boy What are you doing? I'm going to mow her You've been out of school for three months That doesn't matter This is what I want to do I want a game Well you want a game But you've got to get a job While you do it too You're insane What are you going to mow them over? Yeah I'm going to mow them over That way you get out of your room For a little while Maybe you'll get a job You've been out of school three months now It's going to be my job I do it I'm really good at it You've got student loans You've got car payment You've got insurance I'm really fucking good at it Yeah yeah Well you've got to make money While you do it You're not destroying my game Oh pick up while you're dead Dad 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 Pick up while you're dead Please This cost me like hundreds of dollars It's an expensive problem I don't care I don't care You've got to get a job What is this achieve? Get out of your room for one time What is this achieve? What does that achieve what? What is this going to do Mow in my game zone? Maybe you'll quit playing for a while Get a job Pay some of your bills I'm never going to quit playing He's having it He's having it He's having it He's having it When the video He's been out Completely From the mental Ha preso un trattore Gli ha distrutto Gli ha distrutto Gli ha trittato I tutti i vieo giochi dell'Xbox Gli ha demolito Distrutto Massacrato Tutti i giochi Dell'Xbox Ragazzi Il secondo video è fuori È crazy È Non ha senso Cioè È la cosa più fuori Di testa Che abbia Mai visto In tutto La mia vita Ragazzi Ragazzi È impazzito È fuori di testa Vabbè che ti hanno rotto I giochi dell'Xbox Che poi va Ti posso anche capire Però La tua reazione Mi sembra un po' Troppo esagerata Vediamo il terzo video Mi sembra čusti Non 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 e non stai non stai io sòlula allora io faccio ma io faccio trovare non lo scusse mi senti io faccio io faccio ma che cosa questo io faccio ma non scusse Che cosa? 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 Ui chlopcia è inizia la stessa esterica. È normale reaccia di provare a perdere la sua presenza. Che cosa? Dura, che ho imparato. Mata non resta di provare a domovire con il suo figlio. Il suo figlio è inizia. Grazie a tutti. E perché mi non mi ha fatto? Che tu non ho capito controlla, ma non il nostro computer. Perché? Beh, perché? Io vorrei provare il suo sinistro. Mamma, ho capito? Tutto? 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 Tutto?